È stata un'investitura inaspettata perché non ero candidato, né avevo mai lasciato trapelare questa intenzione, non perché fosse un impegno non interessante, ma perché vi erano altri candidati, vi era anche una situazione da comporre di serenità interna al centrodestra, sapendo comunque che il Centrodestra Unito con una buona candidatura vince, per come sono convinto che vincerà. Sono stato chiamato dai leader nazionali, i quali mi hanno chiesto di accettare questa scommessa, e poi ho trovato la condivisione, perché per me era importante anche dei quali regionali, perché secondo me non è sufficiente soltanto l'investitura all'alto, e ho trovato nei quali regionali del centrodestra grande entusiasmo, grande condivisione. Questo mi ha portato naturalmente ad accettare questa scommessa, che non era prevista nella mia vita politica, però sono una persona che alle grandi sfide non si è mai tirato indietro. Io sono un parlamentarista convinto perché la mia vita politica, la conosce, è nata e è continuata a crescere in Parlamento, in Senato, quindi sono uomo di Parlamento, per cui starò in Parlamento tutte le volte in cui sarà necessario, come starò alla conferenza Stato-Regioni tutte le volte in cui a Roma si riunirà, perché lì si assumono decisioni importanti ed occorre essere presenti a quel tavolo. Quindi l'Avola la frequenterò, le volte in cui sarà necessario non la disetterò mai. Certo, l'Avola presenta un regolamento che le conosce sul voto segreto, che può essere chiesto su tutto, mentre Camera-Senato lo si prevede soltanto per i temi etici, i temi del diritto. Sarebbe forse il caso di uniformarlo? Beh, guardi, me lo chiedete in tanti, devo dire una prima persona che me lo chiede. Sì, c'è qualcuno che ha fatto un appello alla riforma, è evidente che andrebbe riformato nell'interesse del buon andamento dei lavori. Devo dire, per onor del vero, per essere franco, che io che ho vissuto in Parlamento, ho delle forti perplessità, che un Parlamento che ha, diciamo, nelle proprie possibilità un'arma da realizzare contro il governo... Posso rinunciare ad usarla, certo? Quindi è chiaro che l'appello ci sarà, però io sono abbastanza pragmatico per la mia esperienza. Grazie. 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 Grazie.